Cos'è il HENO HENO MOHEJI? Ciao, mi chiamo Sayaka e sono italo-giapponese. Avete presente questa immagine che compare spesso negli anime? È un volto umano stilizzato, disegnato spesso dai bambini, composta da una serie di caratteri in hiragana. Le sopracciglia con due HE, gli occhi con due NO, il naso con un MO, la bocca con un altro HE, e infine il contorno del viso dal carattere GI. Questo carattere comprende due trattini che si chiamano DAKTEN o TEN-TEN, che rappresentano la guancia o l'orecchio. Come vedete, seguendo il giusto ordine, vengono letti HE, NO, HE, NO, MO, HE, GI. Quest'immagine è molto popolare sui teriteribos, sugli spaventapasseri, negli anime e nei manga, e si può trovare anche in dei graffiti. Esistono alcune varianti in cui vengono cambiati dei caratteri, ma HE, NO, HE, NO, MO, HE, GI è la versione più diffusa. Vi lascio in descrizione il link di un video molto carino di una bambina che canta proprio del HE, NO, HE, NO, MO, HE, GI. Voi dove vi ricordate di averlo già visto? Ciao!